Era da giorni sotto osservazione a causa di strane frequentazioni con diversi giovani alla zona di Piazza Marina a Vittoria e in particolare in via Caporale degli Zuavi, frequentazioni che avvenivano presso l'abitazione dell'uomo Abdelkrim Zagul, marocchino di 45 anni, fino a che i carabinieri l'hanno sorpresa a intrattenersi con una persona alla quale porgeva furtivamente un piccolo involucro, al che sono immediatamente intervenuti e la successiva perquisizione ha permesso quindi di rinvenire addosso all'acquirente alcune dosi di hashish del peso complessivo di oltre 2 grammi. La perquisizione domiciliare al marocchino invece ha permesso di trovare materiale per il confezionamento dello stupefacente 20 euro in contanti e così scattato l'arresto dell'uomo sottoposto agli arresti domiciliari, mentre l'assuntore, un vittoriese, è stato segnalato alla prefettura di Ragusa per detenzione e uso personale di stupefacenti. Al vaglio degli inquirenti adesso la posizione del marocchino per accertare l'eventuale complicità di altri spacciatori oltre al possibile canale di approvvigionamento della droga. Grazie 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 Grazie